Buonasera, ma chi ci falle qui? Deadpool? Cosa ci fa Deadpool in Five Nights at Freddy's? Eh, mi hanno assunto perché... E voi qua che cazzo ci fate nel mio ufficio? Eh, eh, questa è la mia notte di Five Nights at Freddy's. Ma siamo tutti qui? Eh, siamo tutti qua. C'è stata una riunione. È troppo piccolo questo ufficio per tutti e tre, eh. Però magari... Come siete venuti qua? Io ero qua a fare il mio video di Five Nights at Freddy's, tutti... Cosa si è riempito il posto? E io stavo nel condotto, là, ho sentito del rumore nel mio ufficio e sono uscito e ho detto ma che cazzo... Ma io era a casa che stavo dormendo e ora mi ritrovo qui, fa tipo a voi, boh, ci avranno rapito da Leny, non so. Ma forse ci hanno messo insieme, così magari riusciremo a tirar fuori qualcosa da sto gioco infame. Eh, sarà stato l'uomo telefono. Ci ha chiamato tutti per darmi una mano. Ha capito che non ce la facevo più a prendere colpi da solo. Adesso Deadpool con la spada, no, con la katana fa fuori... C'è tutto. ...gli animatronix. Ok. E ho visto qua che gli spaventa lui, ha visto brutto lui di loro. Allora... Master Chief, fa gli ordini. Iniziamo, iniziamo. Siamo su Gmod, sicuramente l'avrete tutti quanti notato, ecco. Però va specificato perché magari uno crede... Ma che hanno fatto un aggiornamento su Five Nights at Freddy's? E fatela dove si scarica i 2.000 commenti nel video. No, siamo su Gmod. Allora, dobbiamo iniziare, dobbiamo avviare il nostro turno. Vedrete ragazzi, per chi non ha mai visto questa mod, che è similissima, cioè fatta benissimo, è molto accurata come il gioco. Venite, venite, dobbiamo andare ad avviare il nostro turno. Eh, cosa facciamo adesso? Ci muoviamo dallo studio? Dobbiamo, dobbiamo avviare il turno. Venite, venite. Ok, andiamo ad avviarlo. Allora, tanto guarda, date un'occhiata qua alle varie... No, guarda che bello. Guarda qua. Qua abbiamo i nostri amici. Dove vagano loro, vagabondano. Adesso, adesso sono spenti però, perché ancora, vedi, è tutto illuminato l'ufficio. Ma loro partono da qui, da questo studio? Sì, sì, loro partono da qua. Loro sono qua sul palco. Ancora sono in ombri. Ma cosa hanno quei graffitti dietro nel gioco? Vedi, puoi dargli i bacini anche. La mia preferita è Cica. Ma quanto cavolo sono grandi? Se li sparo... Non gli fa un cazzo se li spari. Non gli fa niente. Vedere, alla destra, alle ditte... Non li fate in cazzo, si incattiviscono così. Si incattiviscono. Sparo le balle. No! Venite, venite, venite con me. Ora, per avviare il nostro turno, dobbiamo... No, spegnere la pizzeria, praticamente. Allora, a voi l'onore, l'interruttore è questo. Per favore, no, non fa... Però aspettate, quando spegniamo, dobbiamo correre come dei dannati dentro l'ufficio, perché loro partono. Si attivano. Si attivano. Vai, Gabby. Devi premere l'interruttore. Al tre noi scappiamo. Uno. L'hai già fa... Non l'hai... Ma sì! No, non si è... Hai failato con l'interruttore. Danna lì, devi spegnere! Vieni qui! Fermi il cambio di spalle. È ancora accesa, ripremi. Allora, F? E. E, 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 E. E ancora si è... Corri, corri! Oddio, ci siamo bugati! Andiamo, andiamo! Il terrore! Andate! Da dove siete? Correte, di qua! Presto! Correte! Chiudete! No, non chiudete! Ci abbiamo poco power! Spieghiamo! Questa barra verde! Questa barra verde è il power! Abbiamo anche qui il power! Ok, stiamo attenti a... Allora, io direi... Occupiamoci tipo... Ah, Corridan può guardare sta porta! E io quest'altro, Gabby, le telecamere! Ok, le telecamere, vediamo un po'. Vedi, devi... Attento a non bugarti, eh! Cioè, premi... Un rumore strani, comunque! Con la E! Bravo! Li vedo camminare, eh! Li vedo camminare o no? No, si teletrasportano! Infatti, stai attento... Bastardi con quel... Di solito si teletrasportano alla fine del corridoio... Corridan, mi ti sei bugga... Corridan... No, 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 sono qui! Ma posso vedere dalla porta? O mi uccidano? Guarda, in teoria sarebbe illegale! Ah! C'è Chica qui! Aiuto, mi sono buggato! Ai, ai, ai! Siete dei bastardi! Oddio, oddio, oddio! Gabby? Che è successo? È morto, Gabby! Gabby è mozi, è cagato! Foxy! Chiudi! Madonna, Corridan, ti ho salvato! Ti ho salvato, Corridan! No! Non ti ho salvato! Ha fatto il giro, ha fatto! Dalla parte di là, ho fatto il cagato al zazzo! Te l'ho detto io, te l'ho, che è terribile! Vado, 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 vado! Vado, 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 vado! Va andato! Vabbè, io sono da solo qua! Vado, fantocci, vado! Scappa! Aia, aia! Vieni! Corro come se non ci fosse un domani! Ok, ci siamo dimenticati di dire una cosa, però! Siccome qua la notte non finirà mai, noi dobbiamo metterci... Eh no, dobbiamo metterci un obiettivo! Tipo, dieci minuti? Ok, se resistiamo dieci minuti, abbiamo vinto! Dai, abbiamo passato la notte! Poi magari alla fine facciamo una corsa in mezzo alle stante! Dobbiamo! Allora, ragazzi, guarda le telecamere e nessuno guarda all'angolo, vai! Ok, allora... C'è una chiave qua, la chiave è di fuga, perché non usiamo... Non è di fuga! Dopo ti spiego, tanto sicuramente ci servirà! Gli altri due si sono andati, eh! Guarda, ti vedo solo Freddy lì! Eh, sono solo Freddy! Sono solo Freddy, no! Prima è arrivato Foxy e si è fatto fazzata! Attenzione, perché gli altri non so dove sono! Perché... Vedi se riesci a localizzarli nelle telecamere, quella merda di Bonnie! Ecco, sono così buono! C'è Foxy, c'è uno! Qui! Però non possiamo chiudere! È troppo presto! Gabby, d'annocchietta al corridoio mio, a parte non vedo nulla di qua! Avete visto Cica? Ho paura! Avete visto Cica da qualche pa... Non so prendere nessuno! No, 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 non l'ho visto! Comunque ho visto che Freddy si è masso l'orso! Sì, è qua, è qua, guardalo, è qua! Guarda! È lì? È qua! È lì, dal corridoio! Non mi chiudete fuori, però! Sta arrivando? Ma la luce funziona qua, dobbiamo... Gli manda via la luce? Sì, 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 però solo se sono qua... Ok, è andato via, è andato via, è andato via! Ok, perfetto, l'abbiamo scoperto! Tanto gli sparo col shotgun! Ecco Bonnie, ecco Bonnie! Bonnie si sta muovendo! Bonnie è nella sala dei party di infelicità! Ah! C'è Cica dietro la porta! Chiudi, chiudi, chiudi! Chiudi, chiudi! Lo ho visto per un secondo! Mamma mia! Mamma mia, è bruttissima! A volte si mettono qua, dietro il vetro! Eh, ma in tre è troppo facile, mi sa, però! A volte riguarda sta arrivando niente! Lascia sta! Ci vuole abbordare! Prova ad aprire, forse è andata via! No, è ancora qua! È ancora qui! Cica, lo sai, è sempre quella che se ne va dopo di tutti! Perché puttana! Vai via! Oh, la musichetta, sentite! La musichetta, la musichetta! Questa segnala che Freddy si muove, mi sa, no? No, è Freddy che col suo mal di pancia che viene a prenderci... Wow, wow, wow! Un po' che... Mamma mia! È il gioco più stupido, ma più geniale, ma che era comunque... Ci fa fare i salti! È stupendo! State attenti a sentire i passi di Foxy! Foxy è tremenda! Aspettate, ma Foxy, dobbiamo un po' osservarla se no è... Sì, 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 sì! Ora è tranquilla! Cos'è? Ah, sta per uscire la tenda aperta! No, no, tranquillo, parte così, parte così! Quando sta per uscire la vedi che si è tipo sporta tutta fuori dalla tenda! Ah, ok! Ma finché li guardi con la telecamera non si muovono? Non si muovono! In teoria si muovono meno se li guardi, cioè dovrebbe funzionare così! Ah, ok, dovrebbe funzionare come il gioco! In teoria! Ma io sto ancora guardando... Gabby, vieni, ti faccio vedere, Coridan, venite, vi faccio vedere un secret! Guardate qua, guardate qua! Un easter egg! Guarda dalle grate! Lo vedi? È Golden Freddy! È Golden Freddy! Golden Freddy, no! È qui, ma dopo viene anche lui? Sì, sì, ci può essere, non so come si... Ah! Gabbby! Gabbby! C'era tutta la gente lì dietro, c'era! Ho chiuso, ho chiuso! È morto, Gabby? Sì, ma poi rispona... Io sono solo morto, ma non mi sono beccato un jumpscare! Lo so, perché sei morto fuori dall'ufficio! Ah, ok! Premi il tasto... Eccoti! Eh, guarda chi c'era! Guarda là! Oh, madonna, come è brutto! Eh, ma zia, non si può vedere Ano col fucile a pompa che muore così, però! Eh, vabbè, ma quelli sono overpower! Non sono mostri, c'è! E poi mi hanno fatto paura senza jumpscare, cioè, solo vederli così! Tranquillo che mo ci prende pure il jumpscare! Io li sparo, eh, se li vedo, li sparo! Ok, ma questi se ne saranno andati da qua! Sono sempre qua vicino? No, che sì! Del pull dovrebbe avere paura, è mortale! Sì, no, non dovrebbe morire! Eh, ma si spaventa comunque! Eh, sì, quello sì, sei cacadroso! Vediamo un po' se, tipo, inquadrandoli se ne va! Guarda che brutta! Oh! Oddio! Venti, ci sta guardando! Mamma mia! Con i suoi occhi! Da orsetti! Un cucciolone! Vuoi, vuoi, vuoi! Ma se ne deve andare! Flashiamoli un po', magari... Via! Sloggiare di qua! A casa! Perché ti fanno fare sto lavoro di merda? Non ti fanno licenziare, scusola! No, perché... No, perché tu sei un collezionista di spaventi! Ecco! Ok! Ti piace! Questo o niente, galera! Dov'è? Faventi! Oddio! 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 Oh, se ne sono andati però, eh! Eh, per ora! C'è Cica in compenso! Stanno già facendo loro il lavoro per noi! Sì, ma è bello che dobbiamo resistere! 10 minuti siamo già morti 10 volte! Vabbè, ma vale! Cioè, finora non ci hanno ancora spaventato! Quindi vale! Ah, a parte a me che mi hanno ucciso fuori, però! Eh, fuori! Fuori non vale! Fuori no! Vai, guarda un po' dalla porta, Gabby! Vai, guarda un po' dalla porta, Gabby! Vai, guarda un po' tra le telecamere! Dai, dividiamoci! Let's party! Finalmente posso sparare! Comunque io vi vorrei far notare che abbiamo la barra dell'energia abbastanza bassa! Beh, sì! Oh, no! Chiudetemi fuori! Cosa succede se mi chiedete fuori? Questo! Non vado! Ahahahah! Guardate, adesso mi guardo! Mi faccio io il jumpscare! No! Non vado dal vetro! Devi rompere il cenziale! Oh, cos'è il suo rumore? No, Cica! Cica sta arrivando! No, tranquillo! Quando è lì è lontano! Ma vogliamo essere tipo... Cos'è? Cica, Cica, Cica! Su, ti chiude qui! No, ancora non è vicino! Ma no, non attivate la luce troppo! Guarda, guarda, dov'è! Oh, vale lì! Vale, la luce è lì! O no? Deve avvicinarsi, mi so! Eccolo, ecco, è qui! Eh no, è troppo lontano ancora! Deve essere tipo... Stiamo venendo da due angolazioni! Vabbè, ma stiamo andando bene! Aspettate, tranquillo! Guardate Foxy! È lì, è lì! È lì, è lì! Ma no, no, no! Oppure lo schermo! Speravo che morisse anche da qui! Anche dallo schermo! Andiamo noi a fargli jumpscare! Andiamo noi! Se vuoi possiamo provare a uscire, ma... Deve vale la pena! Vabbè, però una Foxy non si è ancora fatto vedere! Oh, guarda che c'è qui nel bagno! Che si dà... Chi c'è nel bagno? Aspettate, qui dietro non c'è nessuno, ok! Possiamo provare a uscire! Andare in missione! Guardate che c'è nel bagno! Tanto tra un po' dovremmo uscire comunque! Perché quando ci finisce... Freddi, Freddi! Mi sembra dell'oscurità che qua però si vede! Non può nascondersi! In G-Mod! Vabbè, maledetto! T'ammazzo con la pistola! Possiamo l'altro tempo a sparare la telecamera! Infatti, è morto! Guarda, l'hai ucciso! Ah, ya! Che cacchio è successo! Cos'è capitato? È pavero! Mi sono spaventato! Cos'è successo? Oh, c'è la bastarda! Vai via! Guarda com'è brutta da lì! Guarda! Spara lì, spara! No, ma... Ah, Dio! Eccola! Perché ho aperto? Perché? Guarda com'è morto Deadpool! Sul tavolino è morto Deadpool! Guarda com'è morto! A culo! A culo! A culo pizzo! Schifo! Vabbè, abbiamo perso una vita! Quante vite abbiamo? Mette il settore! Infinite abbiamo citato! Vite infinite! No, non abbiamo citato! Stavo citando! E uno jumpscare l'abbiamo collezionato! Come dici tu, Gabby! Colpa tua, però! Eh, lo so! Oh! No, più di! E ce l'avevo dietro, ce l'avevo! E tu perché non hai guardato? Eh, siamo Freddy dietro, me ne sono riscolto! Ok, dai, ma siamo proprio... Tutti e tre abbiamo giocato Five Nights at Freddy, siamo tutti e tre dei nabbi, però... Siamo scarsi! Ora lascio al mitra, eh! Ora mi sono andato a coglione, ora spara col mitra! Dai, amma mia! Ma sì, ma ci stanno camperando, però! No, 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 non fare cose così! Porco il cazzo, Coridan! Che cazzo è la bomba tirata? Dov'è la stanza di Foxy? Ampulsano la pulse rifle? Ampuls! Mi sono perso, dov'è la stanza? Secondo me ci faranno come i protagonisti di Five Nights at Freddy's 3, saremo noi tre! Sì, 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 dopo questo video... Oh, 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 oh! Cos'è? Guarda! Sta arrivando Foxy, guarda se arriva Foxy! No, 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 tranquillo, Foxy! Oh, dov'è? Perché non lo fa vedere? Ma Foxy proprio la vedi correre, giusto? La vedi correre se parte! Ma ancora non è partito! Eh, ma io vedo Bonnie che luccica come una discoteca! Guarda, guarda! Cos'è? È vero, guarda là! Guarda, guarda, guarda me luccica! Perché sta luccicando così? Non lo so, è una luce di Natale! Madonna mia! Sì, ma qua c'è Freddy, eh! Ragazzi, abbiamo tipo due centimetri di power! Come ci organizziamo? Allora, vi spiego! Vi inizio a spiegare! Quando finirà il power? Dobbiamo acchiappare sta chiave! E portarla con noi! Fino giù! Ci sta un generatore che dobbiamo attivare! Eh, ma che palle! Proviamo a flash... Se magari lo flashiamo se ne va! Sì, ma non si muove più! L'hanno poi veramente appeso con un cavo! Eh, ci sta camperando! L'hanno appeso per le orecchie, anche qui! Andiamo via, vai! Proviamo a flasharlo, magari... A volte se gli spari se ne fanno, comunque! Oh no, questo è mio! Vai via! Oh Cristo! Ma che non l'ho neanche sentito, proprio! Io sì! Però era troppo tardi! L'ho vista arrivare, Foxy, ma era troppo tardi! Oh Dio mio, come sono morto male! Sono sotto il tavolo io! E sulla porta! Bastarda! La stavamo guardando fino a prima! Sì, sì! Appena smetti! Dobbiamo sempre guardarla, secondo me! Un po' sì, un po' no! Qua... Dov'è la sua stanza? Questa, no? Eh, ma noi ora guarda quanto power abbiamo! Ma scusa, ogni volta che cambi stanza si cambia... Sì, sì, cambia... Credo che sì, sì! Consumi anche cambiando stanza con la telecamera! Nel resto anche nel gioco è così, no? Oh, esco un pazzo! Come si chiama il coniglio? Bonnie! Il coniglio! Bugs Bunny si chiama il coniglio! Non c'è più Bonnie! Max Bonnie! Max Bonnie! Eh! Bucky, non c'è! Guarda come si è messa! Guardala, tipo a braccia aperte! Sta di vieni! Vieni! Vieni con me! Sai che Deadpool piace tanto le ragazze? No, vai da lei! Che Bonnie è una femmina, poi, mi hanno detto! Ma c'è un sacco di dubbi riguardo a sto fatto! Io penso che sia femmina! Insomma, come si finisce? Si prende la chiave o si scappa? Ma che si scappa? Adesso ci finisce il power e noi dobbiamo provare a riattivarlo! Diciamo che se riusciamo a riattivare il power abbiamo vinto! Oh! Chiudi! Chiudi! Eh, chiudi, chiudi un cazzo! Abbiamo finito l'energia! Finito! E' subito! Venite con me! Venite! Però state dietro perché ho paura! Venite! Vieni che mi incastri! Non mi lasciate da solo! Ho paura! Dovete aprirmi la porta! Questa! Ma corri da... Correte! Guardate di là c'è gente! La porta! Questa nera! Ok! A te mi entra! Sì! Sì! Ci siamo bugati! Ok! Anche questa! Questa di legno! No! Perché mi hai chiuso! Oddio! È scomparso! È scomparso! No! Ho buttato la chiave! Ok! Ce l'ho! Ce l'ho! Aprite la porta di legno! Ok! Dai! Non è... Non si è aperta! Ah! Mi sono caratteristato! Oddio! Non lo so! Ma perché? Ok! Venite! Venite! Qui! Sì! Ma non... Lo scapponso! Ok! Non dire che... Ma dove mi stai portando? Fidati! Non ti voglio violentare! E' qua sotto! Vieni! Chi è qua sotto? Vieni! Qua! Con questa chiave ho aperto la porta di legno! Ora premendo premi pure! Il segreto per riattivare tutto! Sì! Premi! Ok! Sto premendo! Ok! Si è riattivata l'energia! Abbiamo altro power! Ok! Ora mi devo correre di nuovo su veloci! Ora! Mi fa più paura questo di quell'altro! Se vogliamo possiamo vincere! Cioè! Riattiviamo il power! Diciamo che abbiamo finito la notte! Eh! Vai! Vai! Finita qui! Vai! Questa prima notte! Oddio! Mi sono bloccato! Vi faccio vedere qualcosa di speciale! Venite! Ma perché gli altri non ci sono più qui? Perché ora è riattivata! Oh Cristo! Com'è stato possibile questo? Abbiamo riattivato! Ma dal nulla! Non dal nulla! Così! Dal nulla! Bastardo! È peggiore! Jumpscare a caso! Ma scherzi! Cosa te le fa a caso? Vi lascio al zenzio! Ma perché qualcuno forse gli ha dato dosso! Venite! Vi faccio vedere! Venite con me! Vi faccio vedere un easter egg! Vai! Vieni! Dove cazzo? Qua c'è un easter egg molto misterioso! Premete V della tastiera! E andate un po' a va! Non c'è il noclip! Non ho messo il noclip! Nel prossimo episodio ve lo faccio vedere! Guarda! Vedete quella stanza lì? Quella illuminata! Sì! Sì! Sono gli animatronics ancora! La faranno in futuro si spera! Quindi aspettiamo! Che parte proprio! Eh lo so! Lo so! Ah boh dai! Direi che si può chiudere qui! Per questa volta è tutto! Mi raccomando! Nei commenti dei nostri video! Fateci sapere! Se vi è piaciuto! Così noi ne facciamo altri! Ok! Quindi ragazzi! Fateci sapere! Se questo episodio di Five Nights at Freddy's vi sia piaciuto! E noi! Ci vediamo al prossimo! Sì! Ciao a tutti! Alla prossima! Out! Out!